ok vdgm!! ok siamo pronti ciao a tutti i ragazzi qui è Zambo qui è Zambù e oggi stiamo sullo special di un traguardo davvero imponente quello dei 50.000 siamo arrivati a 50.000 e io penso che questo traguardo già gli altri perché tutti i precedenti I traguardi dei mille Dei cinque, dei dieci, dei venti, trenta, quarantamila Erano comunque assurdi per noi Però penso che questo traguardo Ancora più degli altri A me fa pensare Quanto davvero Sia davvero strano Noi siamo due pirla Ma sì, ma pirla Però seguiti da un numero così ampio Di persone Ed è una cosa che davvero ti fa pensare Anche soprattutto ogni volta Io non mi attaccherò mai di ripetere Ripenso a quando il blog dei cinquanta iscritti E pensare ai cinquanta di due anni fa Ai cinquantamila di adesso Mi chiedo davvero perché Ci sono tre zeri in più E davvero una cosa incredibile No, però sinceramente Ci ripenso spesso E fanno davvero pensare Perché noi appunto siamo due ragazzi come voi Perché siamo due ragazzi come voi che ci seguite Abbiamo la nostra vita Abbiamo i nostri problemi Troppi problemi Soprattutto mentali Tanti problemi mentali Abbiamo le nostre relazioni Abbiamo la nostra famiglia Abbiamo i nostri hobby Le nostre passioni Tutto YouTube è uno di queste Così come ognuno di noi due Neanche altri Solo che abbiamo una particolarità Ci piace gagarci addosso Non so come dirla diversamente È una persona che condividiamo entrambi Però no, davvero Parlando seriamente Cioè noi siamo due ragazzi come voi Non siamo né più né meno Di voi che ci seguite Siamo due persone al pari di voi Poi mazocchisti Un po' mazocchisti Ma se più di voi Però a livello proprio di persona Siamo come voi Come te che ci seguiamo in questo momento Cioè siamo esattamente come te Quindi pensare che siamo arrivati a un traguardo Così grande Tra l'altro In un paio d'anni Anno e mezzo Un paio d'anni E poi pensando anche Che siamo arrivati qui Con le nostre mani Cioè perché alla fine Ci siamo fatti la strada a noi Sì Parlando sinceramente Io ovviamente poi Non perdo l'occasione Di ringraziare anche Tutti coloro Con cui abbiamo collaborato Tutti collaboratori infatti Rexen Ashby recentemente Sì 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 Eccetera Eccetera C'è Ditto Che non vedo l'ora di Rifare la coppa Favi J ai tempi Quando avevo fatto La coppia Saluto anche Favi Perché no Anche Ciccio Gamer ai tempi Ai tempi sì Vabbè insomma Non voglio riaprire la storia Precisamente Ringrazio comunque anche lui Perché non ho problemi a dirlo Mi ero divertito con lui ai tempi Quindi ringrazio tutti coloro Che ci hanno supportato Che ci hanno portato avanti In questa strada Però sono davvero contento Perché alla fin fine Ci siamo costruiti noi Questa strada Sì Siamo arrivati a questo traguardo Mettendoci semplicemente La voglia e la persona Di fare video E la voglia appunto Di portare avanti Questa nostra voglia Di farci del male Certo Di farci del male Esatto Di portare il nostro Nostro chissimo A livelli sempre più elevati E poi intanto magari anche Facendo divertire O comunque Intrattenere voi In una qualche maniera Quello che voglio dirvi Il succo di questa cosa È che siamo semplicemente Due che portano avanti Una propria passione Quella del videogioco E quella del masochismo Precisamente La portano Che detta così È proprio brutta Per quelli nuovi Che c'hanno La portano su Un portale web Che è quello di Youtube Intrattengono circa Prova a intrattenere Quelli che ci seguono E quindi Per solito ci arrivate A questo traguardo Così Ci riempie davvero di gioia E ci lascia anche Un po' increduli davvero A me personalmente No davvero All'inizio Ci rimani male All'inizio Ci rimani male Quando becchie le personal mag Che dicono Ma tu sei zampo Ma va Non lo sapevo Ero qui in via Bologna La settimana scorsa Domenica Mi fermano Scusa ma Ma tu sei trono Ma tu sei trono Era con la sala Bellissimo Bello Quindi lei Come si mette così Ma no Io non lo conosco Scusa Non sono So che sei con la tua fanciulla Però facciamosi un selfie Contra No ma L'altra volta Un concerto Mi è andato a un concerto C'era un musicista Che doveva salire Ma tu sei zampo E allora ho visto Suonare un mio fan Sono cose che Due anni fa Non avrei neanche mai pensato Quindi davvero Grazie di cuore a tutti Per tutto quello Che continuate a fare Tutto quello Che avete fatto E continuate a fare Perché noi siamo qui Ma siamo qui Grazie a voi E per merito vostro Perché il vostro supporto Il vostro feedback Il vostro Insomma il tutto Tutti voi che ci seguite Siete voi d'anima Non mi stancherò mai Quindi continuate a seguirci Ragazzi Seguirci ovviamente Siamo qua che davvero Stiamo a spettare Siamo qua per voi Non per noi sicuramente Siamo qua Cioè per noi nel senso che Per noi perché ci divertiamo A fare queste cose Ma siamo qua per voi Perché vogliamo intrattenervi E siete voi quindi Il motore e l'anima Del nostro canale Quindi davvero Grazie ancora Siamo a 50.000 Andremo sempre più avanti Quindi davvero Ai nostri piccoli passi Noi andiamo sempre più avanti Che numeri Grazie Grazie Che numeri ragazzi Parliamo dello special Parliamo dello special Me l'avete chiesto in tantissimi Adesso che si sono roti Tutti quanti le palle Sono roti tutte le palle Perché avete visto Basta questi discorsi filosofici Scritti prima di fare il video Cosa facciamo? Dove l'ha scritto? Non è vero È una cosa che ci è uscito proprio qua Perché è una cosa che pensiamo è vero Comunque chiusa parentesi Basta con questi discorsi qua Vogliamo lo special Sparacelo Lo special Lo special se l'avete In che senso? Lo special Mi ha Ma cosa hai detto? Ma cosa hai detto tu? Devo fai dirlo dopo Perché hai detto qualcosa Special Mi sa Mi sa che Quindi ci avete chiesto in tanti Gli epic moments O comunque i best moments Funny moments Yes I momenti migliori Nel canale A partire da Non so quando partirò Lo vedrete nel video Comunque Ripeschiamo un po' Il passato E il passato prossimo E il circa presente Nel canale Precisamente Vi li piazzo tutti lì I nostri momenti Che io reputo più divertenti E più Più interessanti E più paurosi Di tutta questa Non dico di non da l'inizio Perché troppo però Anche perché ne abbia già fatto Una cosa c'è Non mi cosa Per i 20 mila Quando mi è cresciuta la barba Quando mi sono messo gli occhiali No sicuro Quindi facciamo una bella carrellata Di momenti Happy E faurosi Di tutto quello Che abbiamo passato E sofferto Noi vi ringraziamo ancora Per tutto il vostro supporto Ringraziamo ancora Tutti coloro Che ci hanno accompagnato In questa avventura Che continuano a farlo Un saluto Grazie mille davvero Un bacio a tutti Ci ci vediamo alla prossima Ciao ragazzi Ciao 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 Ok, sono davanti a davanti Eh, quello lì c'è La madre di Dio Ma come? Mettela, coglione E adesso la porta sulla destra La porta sulla destra No È il culo la faccia quella 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 Mi impegno tanto E arriva questa qua La faccia semica Slespita Slespita Ma come si fa? Ti penciollate il gioco Ciao I tuonano Oh mio Dio Oh mio Dio Una puttana L'infermiera puttana L'infermiera dal video porno Uscita direttamente dal video Di Rocco Sifredi Che cercava solo È stato stupendo Hai 15 munizioni Ho paura Andiamo anche noi Andiamo anche noi Aspetta Aspetta Guardalo 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 Ma che cagbia? Perché? Sto ascolontando Ragazzi Perché è bellissimo Me la sto sudando Questa è la prima stanza Bell Non è vero ah Mr. DJ guarda guardalo non c'è niente è un mp3 davvero l'ho cambiato sullo sfondo di questo guarda dietro un Memories no è un pallone da base magari una Memories prova magari una Memories crosto salto strunzo io buono no no bello che cazzo cosa me lo corre me lo corre no bello 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 cos'è è lì è lì non avvicinartici bimba io non so dove devo andare adesso a sto punto cad造 oh Doing mi ha visto mi ha visto mi ha visto Cristo sei robito sto morto su correre NO! NO! NO 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 NO! come si muove? mister DJ mister DJ è lui verso l'infinito ragazzi per me è bellissimo sky AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA io stavo parlando di skyrim no c'è il vinile è un vinile dobbiamo andarlo a suonare dobbiamo andarlo a suonare ragazzi a caso si è trovata benissimo entriamo si perchè c'è il grattacielo di là è questa ok tiriamo allora è questa i believe i can fly è il ferito oh ben sto bellissimo è bellissimo ragazzi prendilo 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 a me me le mie tonsille a me a me i miei film c'è la figa è morta qua chiusa bello è lo sposo ma chi è maggiordomo lì 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 questa non è aperta io buono un conto è provarlo di persona vi assicuro che è qualcosa di cristo è regà regà perché Cristo Oh abbiamo trovato l'ammonia Dai con l'urlo di Munch di fianco Tra l'altro Stendi Ok Tu continui a pensarmi Quello è brutto Sì l'occhio Io non so quale sia Santificatio Ed io Perché parte Cioè lui è statico così Parte in volo Con questa musichetta da circo Rega aiuto Non sento suoni a caso Cosa Figlio di un orso Sono in ritardo per il lavoro Perché non parla lo scheletro Sai perché ha paura di parlare Perché non c'è le corde vocali Perché non ha fegato No ok Era d'aver di pessimo gusto Scusa scuole Era di pessimo gusto Vorresti sderci offeso scuole Però ci stava come battuta Mi è venuta bene Circa Sei molto strabico Ma vai a sentire cosa ne pensa Steve Guarda lo stesso sguardo È il mio stesso sguardo In questo momento Cosa ne pensi Steve Se mi poteste vedere in real life Bene ok Allora io mi fido del pubblico Genovese Diamo Secolo XIX Ok Non hai assolutamente alcun dubbio? Io Non ne ho un'idea Dire il vero Quindi mi fido del pubblico Ditto se mi senti Aiutami Questa Difficile decisione Facci questa la domanda La risposta giusta Se la risposta è corretta Tornerei a casa Con almeno Non tenermi sulle spine Jerry Complimenti La risposta è Sì 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 Big money Tutti big money Jerry Ok Sono nei s*****i S*****i per vedere Se c'è una pagina Oh shit Oh no Allora io sto diventando Io sto diventando stupido Perché ho la mia telecamera Rex c'è una nota Rex c'è una nota Rex c'è una nota Dove? Dove? Dove sei? Rex dove sei? Ti ho perso Rex Ti ho perso Ti ho perso Ecco Ti ho perso Torna indietro Torna indietro Torna indietro No 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 Cesbri Ti ho perso Ti ho perso Aspettato Andiamo Ti ho perso Mi avete peccato Cercavo di nascondermi Cercavo di Oh Oh Che è Cash è stato prima però no 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 oh mio dio oh mio dio ok ce l'hai ce l'hai acceso 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 che cazzo è sono drogato fatto drogato male vedo i colori vedo l'arcobaleno oh mio dio vomito arcobaleni allora no di qua questa parte dio no no oh dio santo dio siamo sulla mappa secondo episodio perché il primo che a te sul canale di espi delas no scary united cop cosa fa un ucciso 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 l'ucciso un ucciso di espi espi no non vanno bene non vanno ragazzi cioè le funzioni fottute sono le quattro sono due ore O Dio sangue! Madonna! Sono da culo!